Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Sono contentissimo perché oggi devo fare un video con delle persone. Non vi spoilerò niente perché altrimenti succederà il casino del casino. Buona domenica a tutti, poi alla fine andremo a vedere la partita Napoli-Juventus. Non vedo l'ora che inizia questa partita che davvero mi appassiona ogni anno. E questa è per la prima volta che vado a vedere Napoli-Juventus allo stadio. Ragazzi, sono appena arrivato a Napoli e sto facendo un video con Fuse Gamer, Mr. Sparta Praga e Mirko. Godiamo come Ricci. Fra poco stasera andremo a vedere Napoli-Juventus. Speriamo bene. Forza Napoli, incrociamo le dita. Tutti insieme. Forza Napoli, tutti allo stadio a tifare. Napoli! È la vittoria del Napoli. Tutti allo stadio a tifare Napoli e Higuain e Sarri non li dobbiamo pensare. Ok. Come? Dobbiamo far fin da come se non è fisico. Un'altra partita normale. È, normale. Indifferenza. Indifferenza. Indifferenza totale. Forza Napoli. Ragazzi, finalmente siamo arrivati allo stadio San Paolo di Napoli. Siamo arrivati a Fuoricrotta. C'è un traffico pazzesco. Arriveremo alle nove, quando la partita è già iniziata. Arriveremo dinanzi allo stadio e lì diremo qui si è successo il casino e sta succedendo un casino. Comunque, sempre godremo come Ricci. Forza Napoli. Ragazzi, siamo arrivati allo stadio San Paolo. Qui c'è Mirko Fius, mister Spartafraga. Forza Napoli. Siamo arrivati allo stadio. Napoli-Juve. Non dobbiamo dare favori all'Inter. Dobbiamo pensare solo a noi stessi. Forza Napoli. Matti una cosa, pronostico vai. Pronostico, 2-1 Napoli. Vai, forza Napoli. Dai ragazzi. Andiamo dentro con lo stadio, dai. Lo stadio, per la prima volta vedo lo stadio nuovo. Azzurro, di tutti i colori, colorato. Forza Napoli. Ragazzi, vedete dove sto. Ragazzi, siamo arrivati finalmente allo stadio. trittura cosìico. Adesso non mi dite niente, però godiamoci il primo tempo. Poi ci rivediamo all'intervallo dove commenteremo accanto con reazioni sul match. Avete, veramente penso. Non mi direi, non mi dite. Siamo in trittura cosìico. Trociamo le dita. Forza Napoli. Non mi direi, non mi direi, non mi direi. Non mi direi, 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 non mi direi. a ragazzi il video finisce qui è stata una bellissima esperienza una bellissima serata mi sono divertito e ho goduto come un riccio sono contentissimo perché abbiamo giocato bene abbiamo tenuto testa la juve ciao ragazzi e iscrivetevi al canale matti il biondo su youtube ciao